Ciao a tutti, facciamo l'unboxing del nuovo Sony CDX-G3200UV fratello minore della radio MEX-XB100BT quella che ho preso io e che ho montato attualmente nell'Audio 3 Allora, apriamo e ci troviamo immediatamente il connettore, tipico connettore Sony tranne della mia autoradio che non è così ma è diverso cavi ISO, normalissimi, cavi ISO autoradio, il frontalino dell'autoradio, che è il mio a spacchettare veramente bello si sente un pochino il plasticoso, d'altronde è come moltissimo autoradio però pre-solido, ti dà la sensazione di solido non si sente tutta la plastica che è tutti i tasti che si muovono è qualcosa di solido non si sente nessun rumore quindi veramente un ottimo prodotto allora, intanto abbiamo l'equalizzatore a 10 bande un'uscita massima di 55 watt per canale il che significa che saranno siano 22 22 e mezzo in RMS funzione e supporto al formato FLAC, questa è un'ottima cosa karaoke Q, questa qui è una funzione che vorrei provare AUX frontale, USB frontale questo qua, quei browser penso sia per cercare nei file del telefono tipo, che ne so, le canzoni, non so qua consigliano di acquistare le casse Sony per gli extra bass insomma, altoparlanti ottimizzati della gamma Sony un manuale andiamo a vedere le specifiche vediamo se ci dà qualche allora, intanto si può aggiornare quindi allora modello compatibile sono rimasti all'iPhone 6S Plus quindi non sarà disposto cioè, è compatibile lo stesso con l'iPhone 7 o 8 insomma io per esempio avendo l'iPhone 7 Plus mi è compatibile anche sull'altra radio insomma allora, qui abbiamo allora, generali impedenza dei 4,8 ohm solitamente 4 uscite, vabbè consumo di corrente nominale 10A per peso 1,2 kg non dice nulla sulla risposta in frequenza sarà la solita 10 Hz 20.000 Hz quindi 20 kHz collegamento semplice per sub quindi anche questo qua il subwoofer direct poi da un po' di di nozioni su come come configurare il vostro dispositivo stereo in sé garanzia Sony garanzia di due anni fascette con gommino posteriore e qui abbiamo la radio in sé frontalino veramente piccolo minimale apparecchio ovviamente nuovo uscita subwoofer ovviamente indifferente perché i sub sono nel bagagliaio fanno solo bassi quindi chi è che se raccorgerebbe se destro o sinistro e le casse posteriori possono essere amplificate ulteriormente se volete amplificare anche quelle anteriori prendete un amplificatore a 4 canali oppure prendete semplicemente degli sdoppiatori tutto qua quindi niente di impossibile si può far tutto ecco qua abbiamo un prodotto se riusciamo vi faremo vedere il funzionamento se no lo monteremo direttamente in macchina dipende anche da da come andrà anche perché questo dispositivo non è mio quindi colleghiamo il cavo fusibile 10 ampere quindi questo qua è un consumo massimo di 10 ampere quindi non è neanche elevato rispetto ai 15-20 dei altri autoradio un'ultima cosa qui abbiamo scelta di colori potete collegare l'iPhone direttamente c'è anche la versione per Android ma comunque l'abbiamo preso per iPhone perché noi utilizziamo Apple collegando direttamente l'iPhone alla porta USB potrete direttamente potete ascoltare la musica direttamente dal telefono dalla radio potete andare avanti e indietro insomma fare tutte le cose così e caricare allo stesso tempo il telefono senza senza problemi carica sulla mia radio carica veramente veloce il telefono quindi non vi fa rimanere a secco con la batteria e e niente ha il sensore per il telecomando telecomando acquistabile separatamente cosa che non capisco perché anche sulla mia radio è così comunque pressoché un ottimo prodotto per la prova audio proveremo se riusciremo faremo una prova a breve vedremo anche come si comporta con il subwoofer direct grazie per la visione ciao a tutti